Allora, in questa classe stiamo facendo un progetto, la scuola pianta alberi, questo qua è l'albero delle lanterne genetiche, e questo che abbiamo qua davanti che cosa sono? Le bambine che contengono i semi, perfetto, qua i bambini della classe hanno portato, alcuni hanno portato bacche, altri hanno portato semi, adesso noi li divideremo, ci diamo, divideremo questi semi, perché è importante piantare alberi secondo voi? Per noi, esatto, per noi stessi e per la natura, secondo voi per ora noi stiamo trattando il nostro pianeta bene o male? Male, bellissimo, e quindi noi il nostro compito qual è? Proteggerlo il pianeta oppure no? Sì, è rispettarlo, proteggerlo è rispettarlo, benissimo, quindi noi adesso dobbiamo avere una cosa, per piantare quando si piantano semi, soprattutto quando hanno la corteccia così dura, la prima caratteristica che bisogna avere è avere molta pazienza, perché noi pianteremo il semi adesso e spunterà ad aprile, però noi durante tutto l'inverno dovremo innaffiare queste piantine, le lasciamo nel vaso, ne potete mettere anche 5-6 semini per vaso, tanto il rapporto con i semi è sempre il rapporto di 1-10, cioè ne piantiamo 10 e ne spunta 1, quindi adesso i nostri semini guardate che sono belli, bellissimi, ci sono stati bambini che hanno portato le bacche e altri bambini che sono stati bravissimi che hanno portato invece i semi, hanno avuto la santa pazienza, loro e i loro genitori hanno avuto la santa pazienza di guardate, adesso hanno messo le mani così perché adesso divideremo i semi a tutta la classe. Buon lavoro bambini! Grazie! Grazie!